ehi ragazzi stamattina mi è successo una cosa strana ero certo di aver portato a scuola i miei compiti ma quando sono arrivato là non c'erano già neanche i miei compiti erano nel mio zaino e sono sicurissima di averceli messi anch'io anche se in realtà sono abbastanza contento che sia successo perché ho avuto qualche difficoltà con gli esercizi sta succedendo qualcosa di strano meglio investigare romeo alla gatto mobile esatto pj robot dobbiamo raggiungere romeo per recuperare i compiti attenzione c'è qualcosa che ci blocca la strada meglio passare di fianco prendi più stante per andare più veloce raccogli più gemme che puoi se le prendi tutte sbloccherai la ricompensa usa le rampe per aumentare la velocità ok ottimo lavoro attenzione c'è qualcosa che ci blocca la strada meglio passare di fianco ok ottimo lavoro raccogli più gemme che puoi se le prendi tutte sbloccherai la ricompensa padrone penso che qualcuno nessuno sa cosa stiamo facendo ok mi ricevi gatto boy romeo si nasconde su un tetto non lontano da qui dobbiamo prenderlo premi il pulsante del salto per saltare l'ostacolo c'è un amuleto vicino a te cercalo questo è un muro alto usa il super gatto balzo per saltarlo per fare un super gatto balzo premi una volta il pulsante del salto e poi premi un'altra volta quando sei in aria ben fatto oh no il sentiero è diviso in due come capire dove andare gatto boy veloce usa l'udito gatto per capire dove è andato romeo per usare il potere dell'udito gatto premi il pulsante che gli sta vicino sullo schermo udito gatto so dove è andato leggi più in fretta testa di latta faccio più veloce che posso padrone questo è un muro alto usa il super gatto balzo per saltarlo ok guffetta tocca a te oh questo è troppo lungo da saltare devi usare i tuoi poteri volanti per continuare per volare premi il pulsante del salto e tienilo premuto provalo ora le gemme sono più difficili da raggiungere in aria assicurati di raccoglierle tutte ben fatto questo fumo è troppo denso per poterlo attraversare volando guffetta puoi usare il vento da super guffetta per diradare il fumo direzione il potere del vento da super guffetta vento da super guffetta vento da super guffetta fantastico posso finalmente proseguire ottimo lavoro il computer mostra la presenza di un amuleto nelle vicinanze trovalo cos'è quella cosa nel cielo padrone non c'è nulla di cui preoccuparsi ben fatto ben fatto saliamo Geko oh oh il sentiero finisce qui puoi scalare l'edificio con i poteri di Geko basta avvicinarsi al bordo per attaccarsi e iniziare a scalare sto rilevando un amuleto speciale nelle vicinanze tienilo d'occhio puoi scalare all'edificio con i poteri di Geko puoi scalare all'edificio con i poteri di Geko buonanone cellula Sto rilevando un amuleto speciale nelle vicinanze Tienilo d'occhio Ben fatto! Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri Oh no! I cattivi sono più avanti! Geko, cerca di sorpassarli con il tuo super Geko mimetismo! Seleziona il tuo super Geko mimetismo per continuare Super Geko mimetismo! Ben fatto! Continua a raccogliere gemme mentre scali i muri Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Continua, dobbiamo prendere Romeo. Continua a raccogliere Genne mentre scali i muri. Continua a raccogliere Genne mentre scali i muri. Non so, Romeo. Mettemmi così sull'opera. Ma ciao, PJ Masks, vi stavo giusto aspettando. Sappiamo quello che stai facendo, Romeo. Ridacci subito i nostri compiti. Oh, volete dire questi fogli? Ve li renderò solo dopo che Robot li avrà letti tutti. Sì, diventerà così intelligente che potrò finalmente conquistare il mondo. Ora fai qualcosa, testa di latta. Sì, padrone. Alida super guffetta! Ai... Super gatto velocità! Sotto! Muscoli da Super Gecko! Prendi questo! Aia! No, 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 no! Inutile scatola di bulloni! Ci siamo impegnati molto per fare quei compiti. Romeo, devi restituirceli. E va bene! Prendeteli! Penserà un piano migliore. Ne siamo certi, Romeo. E noi saremo qui per fermarti ancora! Vi batterò la prossima volta, PJ Masks! Scusami, padrone. Bene! Abbiamo recuperato tutti i compiti! Oh... Non preoccuparti, Gecko. Ti aiutiamo noi! Grazie, ragazzi! PJ Masks e Pip! Urra! Per che girano della notte, abbiamo salvato il giorno! No! No!